Quanti grammi di proteine dovrei assumere al giorno per costruire massa muscolare? Questa è una delle domande più tipiche che si sentono in palestra o comunque da parte di chi vuole ottenere per l'appunto l'ipertrofia muscolare. Il vero problema è che nonostante le conoscenze che abbiamo al giorno d'oggi 2022 in merito a nutrizione ma anche semplicemente a ipertrofia muscolare si sentono ancora delle assurdità in materia c'è chi arriva addirittura a consigliare oltre 3 grammi pro chilo di peso corporeo se si vogliono ottenere i risultati concreti sempre in ottica di ipertrofia. Ma queste quote così elevate hanno effettivamente un riscontro pratico? Per rispondere a questo quesito voglio partire dalle quantità raccomandate per la popolazione generale che si attestano tra lo 0,8 grammi pro chilo di peso corporeo e il grammo di proteine sempre pro chilo di peso corporeo che personalmente ritengo molto più indicata per la popolazione generale. E' chiaro che questa quota va bene sicuramente per il fabbisogno della persona media ma se l'obiettivo è l'ipertrofia questa quota dovrà essere aumentata perché i muscoli lo sappiamo bene sono composti da proteine principalmente quindi dovremo andare ad aumentare la quota proteica introdotta con la nostra alimentazione se l'obiettivo è l'ipertrofia muscolare quindi un aumento della massa muscolare nello specifico un aumento della massa delle cellule muscolari. Da questo presupposto nascono un po' tutte quelle errate convenzioni per cui maggiore l'introdito proteico maggiore sarà la crescita muscolare. Purtroppo ottenere l'ipertrofia muscolare non è così semplice o per meglio dire non risponde a delle leggi così basilari non è che semplicemente aumentando a più infinito la quota proteica introdotta allora aumenterà di pari passo la massa muscolare anzi a un certo punto arrivati a un certo plateau che non è così alto in realtà di proteine introdotte non vi sarà un aumento conseguente di massa muscolare prima che qualcuno lo chieda sottolineo che per avere l'aumento di massa muscolare non basta aumentare l'introdito proteico ma serve anche un allenamento con sovraccarichi quindi classico allenamento in palestra anche qui con determinati parametri che non sono oggetto di questo video ad ogni modo siamo qui per capire qual è questa quota proteica raccomandata per ottimizzare la nostra crescita muscolare e a tal proposito sono andato a cercare alcuni articoli c'è da dire che ce n'è veramente tanti se cerchiamo banalmente su PubMed ma per aiutarvi nella comprensione sono andato a prendere due articoli nello specifico il primo articolo vi porto è una systematic review e meta-analysis di alcuni dei più influenti ricercatori nel settore ipertrofia muscolare quindi persone che fanno ricerca nell'ambito dell'ipertrofia muscolare quindi sia dell'allenamento che della nutrizione correlati ad essa giusto per citarne due uno è Eric Hems che è ad esempio l'autore di questo bellissimo libro e uno è Brad Shenfield che è l'autore di quest'altro libro che entrambi ve li consiglio se siete interessati all'aumento dell'ipertrofia muscolare ovviamente questi sono solamente due libri scritti da questi autori ma negli anni hanno prodotto talmente tanti contenuti scientifici che veramente non vi basterebbero mesi per leggerli tutti fatta questa doverosa premessa su questi autori necessaria per farvi capire che queste informazioni che vi sto per dare non provengono da il sedicente esperto di palestra l'influencer X che oggettivamente non ne sa niente di nutrizione e di allenamento ma stiamo parlando di figure riconosciute a livello internazionale in materia detto questo considerando questo studio che per chi non lo sapesse è uno studio essendo una meta analisi che va a considerare tantissimi altri studi già pubblicati in materia quindi parliamo di studi già validati che però hanno subito un'ulteriore scrematura da parte di questi autori in modo da ottenere dei dati che siano ulteriormente attendibili ecco in base a questo studio si è visto che la quota necessaria per ottimizzare l'ipertrofia muscolare si attesta sul grammo virgola 6 pro chilo di peso corporeo per l'individuo quindi capiamo bene che non è una quota così elevata come spesso si vede sottolineo che stiamo parlando di una fase di massa di costruzione muscolare quando si va a fare una fase di definizione ad esempio la quota proteica aumenta in quel caso però anche questo non è l'argomento di questo specifico video se magari qualcuno dovesse avere il dubbio sottolineo che questa quota che vi ho appena detto è riferita ai chili di massa corporea non di massa magra perché spesso in base all'autore si trovano un po' delle differenze alcuni propongono i grammi di proteine rispetto alla massa magra che se vogliamo è un modo più preciso di dare indicazioni per chi le deve usare però è anche vero che per la maggior parte delle persone diventa un'indicazione poco spendibile perché si va poi a fare una stima difficilmente si riesce a sapere l'esatta massa magra di una persona un'indicazione riferita al peso corporeo è più spendibile per tutti anche se magari è un po' più grossolana ad ogni modo in questo caso abbiamo 1,6 grammi di proteine pro chilo siccome volevo portarvi più informazioni possibili con questo video non mi sono soffermato a questo studio nonostante fosse uno studio veramente importante ma sono andato a prendermi anche le indicazioni sempre in merito alla quantità di proteine della società internazionale di nutrizione sportiva anche in questo caso abbiamo una quota raccomandata per ottimizzare l'ipertrofia muscolare che si attesta tra l'1,4 grammi e i 2 grammi di proteine per chilo grammi di peso corporeo quindi in questo caso abbiamo un range non abbiamo un numero fisso che oggettivamente ha più senso se vogliamo indirizzarlo a una popolazione che può essere molto differente da notare che comunque l'1,6 ricade sempre entro questo range che ci viene dato io aggiungo che quei 2 grammi pro chilo cioè il limite massimo va visto in una certa ottica cioè anche in base alle calorie che stiamo assumendo in teoria se siamo in una fase di massa siamo in un surplus calorico quindi c'è anche da capire che arrivati a un certo livello di surplus calorico sarà normale che le proteine siano un po' più alte quindi che arrivino a questi 2 grammi pro chilo perché anche gli altri macro quindi carboidrati e grassi saranno molto alti perciò semplicemente per rispettare le percentuali rispetto alle calorie totali le percentuali che tra l'altro vanno rispettate se vogliamo stare nelle linee guida per una sana alimentazione è normale che questi grammi di proteine saranno leggermente aumentati sottolineo che tutte le proteine che trovate nei vostri alimenti vanno conteggiate non solo quelle di origine nobile quindi ad esempio se mangiamo un bel piatto di pasta una fonte principalmente glucidica però avremo anche una certa quota di proteine ecco quelle vanno conteggiate ritornando al discorso che vi ho appena fatto sul surplus calorico aumentando le fonti alimentari in generale di quantità vedete che le proteine aumenteranno di pari passo quindi alla fin fine quante proteine dovremmo assumere? il mio consiglio è se l'obiettivo è l'ipertrofia muscolare di stare esattamente nel range che vi ho appena descritto cioè da 1,6 grammi di proteine pro chilo corporeo a 2 grammi di adattare questa quota in base alla fase in cui ci troviamo nel senso nel momento in cui iniziamo la fase di massa possiamo stare su 1,6 grammi pro chilo di peso corporeo e poi man mano che aumentiamo le chilocalorie possiamo aumentare leggermente la quota proteica rimanendo sempre in questo range che vi ho appena dato per mantenere però quella percentuale che dovrebbero avere i macronutrienti tra di loro spero di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento se avete dei dubbi in merito tutto quello che ho detto come sempre lasciatemi qui un commento e io appena posso vi risponderò se volete che approfondisca qualche determinato argomento come potrebbe essere ad esempio i danni di un eccesso di proteine oppure se volete sapere quella percentuale di cui accennavo prima del rapporto tra gli alimenti o anche altre info sempre riguardo alle proteine scrivetemelo pure qui nei commenti noi come sempre ci vediamo qui alla prossima ciao 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 ciao